Formule, logica, geometrie e problemi non hanno segreti per gli studenti del San Nicolò. In particolare la prima classe del liceo scientifico è salita sul gradino più alto del podio al concorso nazionale matematica per tutti dell'associazione Tocalon. Ma anche le tre classi della scuola media sono arrivate alla finalissima che si è svolta il 5 e il 6 aprile a Roma a conferma del buon livello di preparazione di tutto l'istituto di piazza Cardinale Nicolò. L'idea di partecipare è stata della coordinatrice del liceo Benedetta Pacini. Sono rimasta incuriosita per il fatto che mentre in tanti concorsi di matematica è il singolo che gioca e viene valorizzata solo l'eccellenza, in questo caso si tratta di un gioco a squadre. Attraverso una selezione interna ad ogni scuola sono arrivate alla finalissima di Roma solo 60 delle 520 classi che hanno aderito in tutta Italia. I ragazzi sono stati divisi a gruppi di quattro. La gara è stata molto dura al ritmo di giochi da tavolo su logica e problemi fino ai duelli finali di calcolo a mente in cui hanno trionfato quattro ragazzi del liceo San Nicolò. Si tratta di Annalisa Pucci, Susanna Young, Sabrina Chen e Sergio Dai, un'italiana e tre cinesi. Per tutti e quattro il sogno è di lavorare in ambito scientifico. Penso un lavoro riguardo alla matematica oppure l'informatica. Quanto è contata la preparazione qui a scuola rispetto alla tua passione per la matematica? Molto perché è proprio a scuola che ho scoperto fin dalle medie che la matematica è una materia che quando ero piccola non credevo che mi piacesse così tanto. Oltre alla Coppa i quattro genietti hanno riportato a Prato un buono scuola per giochi didattici, ovviamente matematici. La prima liceo è veramente a un livello altissimo e soprattutto essendo pochi riusciamo comunque a lavorare bene anche con chi ha un po' più di difficoltà.